ok allora buongiorno a tutti ancora iniziamo oggi il corso di informatica del primo anno comune di questa fetta di Politecnico noi siamo cosiddetti il corso 3 di voi che siete iscritti a una di queste lauree e questa fetta di alfabeto ok come sapete il primo anno è spalmato su più corsi affettati quindi vi do innanzitutto il benvenuto io sono Fulvio Corno sono il docente titolare di questo insegnamento che ci terrà compagnia per 8 crediti quindi 80 ore e qua a fianco a me abbiamo Roberta Bardini che si occuperà soprattutto della parte di laboratorio quindi la vedrete più nelle ore di laboratorio che non in aula se non eventualmente qualche scambio che faremo durante il semestre per le ragioni più varie ma lavoriamo in stretto coordinamento quindi vi accorgerete che ci sarà un legame molto forte tra le cose che vedremo in quest'aula e le cose che vedrete nei laboratori ok vi dicevo che le prime mie parole sono parole di benvenuto sono vi do il benvenuto non solo al Politecnico beh non ho la banda come aveva il rettore ieri ma vabbè vi do soprattutto il benvenuto a Ingegneria nel senso che le ore avete visto oggi avete fatto un po' di matematica un po' di chimica questo corso invece è il primo corso propriamente di Ingegneria dove con Ingegneria intendo progettare non impariamo solo metodi di calcolo o nozioni che dobbiamo sapere ricordare impariamo a progettare a pensare come progettisti nel nostro piccolo chiaramente nel nostro corso di informatica ma è il primo corso nel quale vi si chiede non tanto di risolvere applicare degli schemi noti o delle formule noti o dei metodi che dobbiamo imparare o imparare dei teoremi ma di mettervi in gioco e costruire qualche cosa di vostro costruire qualcosa di personale che però rispetti certe regole certe specifiche certi vincoli che vengono dati diciamo così nel testo della consegna dell'esercizio ok questa è un po' la vita la vita dell'ingegnere quella di appunto partire da problemi rendersi conto delle dei vincoli che ha delle risorse che ha a disposizione e trovare una soluzione per questi problemi qualunque tipo di ingegnere ok noi qui giochiamo a fare il piccolo ingegnere nel corso nel campo dell'informatica però io ho la speranza l'auspicio che il modo di approcciare i problemi che vedremo in questo corso come modo di pensare ve lo potrete ritrovare anche nel seguito della vostra carriera ok dovete ovviamente avere un po' di pazienza perché tra il primo e il secondo anno ci sono tante cose di questo tipo qua come le lavagne che abbiamo alle mie spalle ma poi più si va avanti più si comincia a entrare nel vivo e divertirsi un pochino di più ovviamente noi parliamo di ingegneria informatica questo è un corso di informatica quindi gli strumenti che useremo per affrontare risolvere questi problemi che ci porremo sono gli strumenti informatici quindi il calcolatore la programmazione del calcolatore quindi noi usiamo questo strumento particolare se fossimo non so ingegneri civili useremo i disegni l'autocad tecnigrafi o altre cose con linguaggi diversi con metodi diversi con regole diverse ma l'approccio mentale è abbastanza comune noi qua ci concentriamo appunto sulla parte l'informatica non vorrei che si confondesse l'informatica con i linguaggi di programmazione io un po' per farvi uno scherzo un po' no nei giorni scorsi sul canale telegram a cui però qualcuno non si è ancora iscritto quindi almeno 100 persone che sono iscritte al corso non si sono ancora iscritte al canale telegram adesso poi prima di uscire alla porta vi controllo il cellulare 1 a 1 avevo mandato un sondaggio chiedendo quali linguaggi di programmazione conoscete e io sono sicuro che tra le persone che non hanno risposto ce ne sono alcune che hanno detto cacchio io non so non ho mai fatto linguaggi di programmazione come siamo messi in realtà l'obiettivo vero del corso non è tanto imparare un linguaggio di programmazione che ci accorgeremo che è una cosa tutto sommato semplice è imparare la programmazione ossia detto in altri termini il problem solving la capacità di affrontare e formalizzare un problema questa forma mentale è qualcosa che dobbiamo costruire insieme partiamo da zero che voi sappiate o no un linguaggio di programmazione non è rilevante partiamo comunque da zero chiaro che chi ha già qualche esperienza ha già degli appigli mentali ha già qualche facilitazione ma si parte come se nessuno avesse mai fatto questo ci accorgeremo che l'80 per cento della difficoltà è capire come risolvere il problema e il 20 per cento è il linguaggio poi conosciuto un linguaggio passare dal primo linguaggio che impari al secondo è relativamente facile ma ciò che sarà l'ostacolo per molti di voi per alcuni di voi sarà proprio quello di riuscire a entrare nella mentalità nel tipo di ragionamento che serve che è un ragionamento estremamente analitico in cui dovremmo ragionare sui problemi e capire quale siano i metodi risolutivi passo passo con un livello di dettaglio a volte estenuante e poi insegnare questo al calcolatore ma insegnare al calcolatore è facile se hai capito come lo risolvi non avremo modo di parlare durante il corso fare esempi di questo ma preparatevi allora su questo tema alcuni di voi di noi sono più portati diciamo così caratterialmente mentalmente come modo di ragionare altri faticano di più prendiamolo come un dato di fatto chi fatica di più chi si accorge che fatica a entrare nella mentalità ovviamente dovrà sforzarsi un pochino di più e deve accettare di mettere in gioco il proprio modo di pensare cioè non puoi applicare all'informatica lo stesso metodo di studio che ne so della biologia o dell'economia dove si ragiona per classificazioni per elenchi per analogie per metodi predefiniti e se cercate di applicare all'informatica uno di questi metodi di studio di ragionamento non ci riuscite fallite non si presta si parte in realtà da più fa da più da cose più facili non ci sono non c'è bisogno di molti prerequisiti c'è bisogno essenzialmente di apertura mentale razionale e logica questo però qui sono parole teoriche poi quando vedremo le cose in pratica le apprezzeremo di più ecco l'altra cosa che sempre a proposito linguaggi di programmazione un accenno che vi faccio è che alcuni di voi hanno imparato un po non dico programmare ma pacioccare col computer nelle scuole superiori e vedo ho visto in giro delle brutte abitudini che avete preso un approccio un po provo metto tolgo sposto vediamo se funziona chi se frega ecco questo approccio qua non ci serve non ci basta quindi a volte dovrete disimparare delle cose che pensate già di sapere per poterle magari riapplicare no in un modo più corretto dove corretto significa anche più scalabile più applicabile a problemi più complessi purtroppo in molti 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 no in alcune scuole superiori si predilige la quantità piuttosto che l'approfondimento ti faccio vedere 27 cose diverse ma poi alla fine non ne capisci mai davvero nessuna qui cercheremo di andare un pochino più con calma in queste 80 ore che abbiamo a disposizione ma dare l'approfondimento che serve allora dette queste parole generali vi racconto due cose sul programma del corso ma prima di tutto vi ricordo che ci sono due o tre link che vi ho già messo due settimane fa sull'avviso che vedete sull'app e sul portale del politecnico e anche sul messaggio diciamo così fissato sul gruppo telegram c'è questo link a questo sito che contiene tutta l'informazione che ci serve che vi serve in cui raccogliamo tutte le informazioni tutti i link di cui potete avere bisogno quindi le cose che vi racconto le slide che sto usando le informazioni che vi condivido se il sito risponde lo trovate qua se il sito non risponde lo facciamo rispondere noi eppure wifi c'è ma evidentemente qualcosa si è rotto proprio nel momento del bisogno ma noi andiamo avanti arriverà forse se arriverà in ogni caso volevo dirvi questo link è quello più importante da cui poi potete ricavare raggiungere tutte le altre informazioni compreso il materiale delle lezioni il materiale dei laboratori le video lezioni registrate eccetera eccetera ok ok tra cui ovviamente il programma del corso che vi sto raccontando eccetera allora io non perdo molto tempo ad escrivervi il programma del corso perché per chi queste cose non le conosce sarebbe un'elencazione di parole che non conoscete quindi abbastanza abbastanza noioso abbastanza poco diciamo così poco utile ma essenzialmente l'idea è di avere qualche nozione di base sul funzionamento del calcolatore cioè come funziona il computer cosa vuol dire la programmazione di un computer e quindi sviluppo di un programma e poi quello che si chiama problem posing solving cioè la definizione l'analisi e la risoluzione di problemi usando attraverso diciamo così la programmazione quindi attraverso prima la definizione di un algoritmo e poi l'implementazione di questo algoritmo all'interno di linguaggi di programmazione. Nello specifico il linguaggio di programmazione che useremo sarà Python nel quale impareremo a usare alcuni tipi di strutture dati che sono di variabili di valori che sono gestiti dal linguaggio stesso ma su questo come dico non mi dilungo adesso perché altrimenti entrerei a usare termini che non vi ho ancora spiegato con reciproco annoiamento. se proviamo a vedere come questi argomenti si sviluppano sul calendario essenzialmente noi abbiamo una piccola parte di teoria di questo corso saranno poi due tre lezioni con associati esercizi il grosso del corso sarà la parte di programmazione dove qua un pochino a caso ho diviso tra problem solving che è la parte diciamo più concettuale e la programmazione che è la parte più implementativa ma in realtà fanno parte di un tutt'uno non è che le posso separare adesso oggi penso e domani realizzo penso mentre realizzo normalmente se non ho qualche problema mentale e poi c'è la parte quindi questi 60 50 ore circa di programmazione 10 ore circa di teoria e queste compongono il pacchetto delle 60 ore circa in aula in quest'aula qua a lunedì e al mercoledì e poi ci sono i laboratori saranno 12 laboratori di un'ora e mezza ciascuno quindi ogni settimana avrete un'ora e mezza di laboratorio andremo nei laboratori informatici del Politecnico sono laboratori diversi messi in posti diversi ma poi vi do indicazioni e quindi sono una ventina d'ore di laboratorio nei laboratori ci sono già i computer quindi potete usare direttamente i calcolatori che vi mette a disposizione il Politecnico ok e questo completa siamo così il pacchetto di 80 ore complessive queste sono le ore che passate al Politecnico poi sicuramente passerete altre ore per conto vostro cercare di portare a termine gli esercizi che vi suggeriamo che vi assegniamo e che vorrete provare a risolvere ecco più che tante parole io vorrei provare a darvi un assaggio di che cosa faremo in questo corso ok poi vi ho registrato due video brevi che vi raccontano la parte noiosa quindi il calendario l'orario i libri l'esame tutte queste cose qua che tra un'ora compariranno su youtube in automatico sul portale le ho già caricate quindi vi chiedo poi di guardarvi sono due due video di 20 minuti cosa abbastanza leggere per non fare la parte noiosa insieme sfruttiamo le ore in cui siamo faccia faccia per fare diciamo così dei contenuti un pochino più densi di conoscenza ok e quindi voglio farvi un esempio di quello che potrebbe essere un esercizio diciamo a livello di difficoltà di quello che troverete all'esame allora io voglio provare a scrivere un programma con voi poi non lo scriverò in realtà ma a ragionare per scrivere un programma che risolva questa semplice domanda quali sono i nomi più frequenti in quest'aula è chiara la domanda non è ambigua si capisce cosa sto chiedendo non siete ancora ingegneri si vede sapete la risposta sapete la risposta no sapreste trovare la risposta si vuole mettere tutti i nomi in un database ma come a parte complicato io voglio sapere se ci sono più augusto o più francesca chiamiamo poi prendiamo uno che conta come allora abbiamo tante idee più o meno confuse in mente no allora cerchiamo di analizzare questo problema che ci siamo dati è un problema semplice anche una curiosità se vogliamo però se lo dovessimo fare a mano o in qualche un qualunque modo probabilmente a prossima ora la metteremo a controllare fare lo spoglio delle schede lo scrutinio tanti questi giorni quasi pare queste cose e poi alla fine non siamo mai sicuri no proviamo ad analizzare questa domanda e analizzare un possibile modo di risolverla e poi proveremo a fare un programma o vedere un programma possibile così vi do anche la risposta allora questo che avete detto che era una richiesta una domanda chiara non lo è affatto è piena zeppa di ambiguità e adesso le vediamo e di per sé così come è posta non è facile da risolvere ok allora prendiamo una cosa uno strumento sofisticatissimo blocco note ok uso blocco note semplicemente perché io a mano scrivo malissimo e quindi se scrivesse la lavagna sulla lavagna luminosa non si capirebbe nulla e quindi chiedo scusa ma tra l'altro c'è il vantaggio che poi alla fine ciò che scriviamo rimane ok allora questa è la nostra domanda proviamo un po a prendere qualche nota a ragionarci sopra allora io la primo primo dubbio che mi pongo è in quest'aula come faccio a sapere chi c'è in quest'aula cioè dovrei innanzitutto raccogliere le informazioni su chi siete voi innanzitutto dovrei chiudere a chiave la porta in modo che non entri e non esca nessuno perché altrimenti devo poi ricominciare da capo e poi dovrei chiedere le informazioni su chi siete voi quindi raccogliere il nome di ciascuno di voi che è un lavorone no? forse non era proprio quello che volevo forse se avessi scritto in questo corso potrebbe essere più facile? in questo corso potrebbe essere più facile sì perché io sull'app ho l'elenco degli studenti ho l'elenco degli studenti iscritti al corso quindi in questo corso già non è ancora abbastanza preciso iscritti a questo corso allora quello che qualcuno di voi cominciava a pensare devo raccogliere i nomi magari ce l'ho già fatto questa informazione ce l'ho già non ho l'informazione su chi c'è in quest'aula ma ho l'informazione su chi è scritto al corso è lo stesso problema? no è la stessa domanda? no la risposta sarà la stessa? non lo so forse sì forse no dipende da chi è rimasto a casa chi è venuto magari qua in quest'aula c'è qualcuno che non è iscritto perché è venuto a far compagnia a far coraggio a un amico o un'amica e qualcuno invece che è iscritto non è venuto per qualche motivo e quindi c'è un disalegnamento tra i due insiemi di dati ma il primo non ce l'ho il secondo ce l'ho insieme di dati lo posso ottenere facilmente quindi prima di tutto devo pormi nelle condizioni di risolvere un problema che sia effettivamente risolubile di cui io sia certo di poter avere i dati le informazioni in questo caso l'elenco degli iscritti al corso è un'informazione nota e più o meno facilmente reperibile quindi votiamo per questa modifichiamo la domanda dicendo ok quali sono i nomi più frequenti tra gli iscritti a questo corso è un'approssimazione piuttosto di metterci un'ora per rispondere alla prima domanda magari ci metto cinque minuti per rispondere alla seconda sapendo che la risposta non è esattamente precisa eventualmente potrò poi raffinarla no? questo è un po' un vizio che hanno gli ingegneri dare delle risposte approssimate ma fattibili e questo è uno un livello di ambiguità il secondo livello di ambiguità è nomi cos'è un nome? tutti noi abbiamo un nome che è diverso dal cognome nome, cognome però ci sono i nomi doppi allora se io mi chiamo con un nome composto se io mi chiamassi, io mi chiamo Fulvio, un nome solo è facile ma chi di voi ha un nome doppio non so, Pier, Paolo, ma staccato come lo conto? cioè faccio una casella per i Pier, Paolo oppure do un voto a Pier e un voto a Paolo non c'è una risposta giusta però dobbiamo decidere, dobbiamo chiarirlo quello che sto dicendo è che la domanda era ambigua nel momento in cui analizzo il problema mi accorgo che mi serve maggiore informazione perché l'informazione che c'era nella domanda che sembrava chiara non lo è più ad un esame più dettagliato se c'è un nome con lo spazio in mezzo come faccio? poi ci sono mi sembra tra di voi ci sia qualcuno con quattro nomi addirittura se ho visto bene l'elenco come li trattiamo? non lo so possiamo decidere due possibilità come dicevo o i nomi composti li prendiamo come se fossero un nome unico oppure li spezziamo nei singoli nomi componenti e ciascuno di questi nomi in certo senso vota e quindi Pier Paolo dà un voto anche a Paolo e alla fine magari il nome più frequente sarà Paolo e ha vinto anche perché c'era Pier Paolo come facciamo a dirimere questa questione a decidere come trattare questa informazione? beh, questo dipende dal contesto nel caso in cui questo compito qua mi sia stato assegnato da qualcuno quindi per lavoro mi hanno detto fai sta roba e io quando comincio a analizzarla mi accorgo che mi serve informazione in più per capire cosa devo fare di preciso e allora torno da chi mi ha assegnato il compito gli dico senti ma mi spieghi meglio in questo caso tu cosa vuoi che faccia? come vuoi che tratti questa informazione? si torna al committente per avere un chiarimento sulle specifiche qui le specifiche non ci sono non c'è un committente ce lo siamo inventato noi e questo varrà per tutto questo corso e per buona parte dei corsi al Politecnico che siamo in un ambiente didattico normalmente ciò che non è specificato lo specificate voi scegliete voi ok? in un contesto reale ciò che non è specificato vado a verificarlo col committente in un contesto didattico una scelta vale l'altra fatela voi il punto chiave qual è? è accorgersi che c'è una scelta da fare se vado avanti e non me ne accorgo arriva un risultato in fondo e non ti so più dire che cosa rappresenta quel risultato questa è una cosa semplice ma in altri casi se non mi accorgo che c'è una scelta da fare arriva un risultato che non so più interpretare perché non ho capito in realtà uno dei passaggi del problema ok? quindi la cosa importante nell'analizzare il problema capire che c'è una scelta da fare che c'è un'informazione aggiuntiva da specificare bisogna specificarlo meglio allora possiamo specificarlo in un modo oppure in un altro scegliete voi io se fossi in voi sceglierei quello che mi semplifica la vita se posso scegliere e non quello che me la va a complicare perché così è più bello perché così è più figo no? invece se poi starva qua ci serve per un esame quindi io ho qua le possibilità potrebbero essere possibilità 1 nel caso di nomi composti li tratto come un nome unico possibilità 2 nel caso di nomi composti li separo nei come si chiama nei nomi componenti nei singoli nomi componenti dovrebbe chiamare a qualcuno che lavora in anagrafe per farci dare la terminologia corretta e ho due possibilità a me pare la più semplice sia questa c'hai un nome che c'è lo spazio dentro e vabbè ti entri sto spazio non faccio nulla di particolare non devo fare un'elaborazione ulteriore per andare a spezzettare i nomi in spazio poi ovviamente va da sé che il Pier Paolo ma forse anche in entrambi i casi Pier e Piero sono comunque due nomi diversi non ci mettiamo anche qua ad andare ad analizzare le possibili abbreviazioni dei nomi così come Paolo e Paola sono due nomi diversi noi andiamo ad analizzare il valore letterale del nome questo non so forse non è neanche caso di specificarlo sembra ovvio però purtroppo ci accorgeremo che nell'informatica ovvio non esiste ok ok allora con questi due chiarimenti come si trasforma il testo il testo si trasformerebbe in quali sono i nomi da parentesi singoli semplici diciamo così o composti degli studenti iscritti a questo corso quali sono i nomi ho perso la cosa più importante più frequenti e l'abbiamo specificato un po' meglio dove questa parentesi semplici composti nasconde il ragionamento che abbiamo fatto prima io voglio farlo stare in una frase ma altrimenti avrei dovuto dire semplici oppure nel caso dei nomi composti si tratterà come un nome unico poi altro dubbio quanti quanti ne vuoi vedere vuoi vedere il nome più frequente no qui è plurale quali i primi due i primi sette tutti quello vuol dire quali sono i più frequenti quanti i più frequenti cioè mi serve una risma di carta per scriverli tutti o mi basta una riga perché mi serve solamente il più il più frequente anche qua decidiamolo esplicitiamolo perché così come è scritto è ambiguo così come se io provassi a dire il nome più frequente potrebbe dar bene potrei scegliere di interpretare questo quindi quel quale quel plurale lì lo faccio inventare un singolare vabbè ma sarebbe chiaro se dicessi il nome più frequente il primo della classifica va bene no che non va bene ce ne sono più di uno se ce ne sono due a pari merito non lo sappiamo io lo so perché ho provato ieri non ce ne sono due a pari merito ma se ci fossero così non lo posso scrivere non ha senso è sbagliato non considera un caso possibile un tipo di risultato possibile quello in cui ci sia più di una persona a pari merito allora nel caso in cui volessi solo il nome più frequente ma ce ne sono due a pari merito lo devo scrivere in modo diverso dovrei scrivere i nomi degli studenti che compaiono con la massima frequenza questo è scritto in modo un po' matematico oppure potrei scrivere il nome più frequente o i nomi più frequente o devo mettere una frase un pochino più colloquiale dicendo a pari merito o i nomi o più nomi in caso di parità di frequenza di frequenza ok quindi questo il nome più frequente abbiamo detto che scritto così non va bene e le altre due frasi che ho scritto sono grossomodo equivalenti massima frequenza vuol dire la frequenza è un numero il massimo di quel numero poi ve lo insegnano la matematica è un valore e io mi chiedo quali sono tutti gli studenti il cui valore associato è uguale a quel massimo e può darsi che quel massimo compaia una volta sola può darsi che quel massimo compaia più volte e sotto lo scritto in modo un pochino più colloquiale uno o più di uno se sono a pari merito non dico pari merito perché non è un merito avere il nome comune no? allora a pari frequenza a pari numero di occorrenze cioè di volte in cui capita quindi questa potrebbe essere una richiesta una migliore specificazione della richiesta di che cosa devo stampare oppure potrei chiedere l'elenco di tutti i nomi ordinati per frequenza prima stampo il più frequente poi sarà il seconda poi il terzo se ci sono i pari merito li stampo insieme poi seconda poi il terzo eccetera eccetera e poi ci sarà una lunga sfilza di nomi che compaiono una volta sola va bene oppure un'altra variante potrebbe essere l'elenco di tutti i nomi ordinati a alcuna frequenza purché abbiano frequenza non so maggiore di due maggiore di tre cioè tutti quelli che compagno una volta sola due volte non vanno ad allungare il brodo no? qui quindi faccio un elenco ordinato ma non di tutti i nomi ma solo di nomi che hanno una frequenza almeno pari a un certo valore una soglia che è decisa tutte queste formulazioni sono tutte formulazioni diverse ovviamente danno dei risultati diversi ma lecite legittime e precise si capisce cosa devo fare si capisce se quel nome lo devo mettere o non lo devo mettere sulla base del criterio che scelgo e non abbiamo quella formulazione vaga i più frequenti che vuol dire e poi c'è ancora almeno io vedo almeno un altro punto ancora di ambiguità è per questi studenti per questi nomi cosa voglio vedere voglio vedere solo il nome cioè voglio che il programma mi dica il nome più frequente è Aurelio o anche la quantità la frequenza il numero di persone che hanno quel nome costa poco tanto ce l'avevo l'ho calcolata te la faccio vedere ma devo dire che cosa vuoi oppure solo la quantità posso dire guarda c'è un nome che compare 20 volte ma non ti dico qual è può darsi dipende da che cosa voglio allora devo specificare anche qua per questi nomi visualizzare il nome stesso e il valore della frequenza corrispondente chiaro che non ha più l'appeal della frase singola che ho scritto sopra anziché una frase abbiamo scritto quattro righe perché sono i nomi semplici composti più frequenti scritti nel corso selezionando l'elenco di tutti i nomi ad esempio scegliamo questa ordinati per frequenza per i quali occorre visualizzare il nome stesso e il valore della frequenza corrispondente devo anche prendere fiato a metà non riesco più a dirlo tutto insieme ma però almeno così è preciso ciò che abbiamo fatto adesso prendo i nomi di analisi cioè prendo un problema e comincio a tagliuzzarlo decomporlo analizzarlo vederne le varie sfaccettature capire quali sono i dati capire come sono fatti questi dati capire come è il risultato che voglio capire quali sono i casi particolari che possono capitare capire come voglio gestire questi casi particolari che possono capitare cioè in una parola capire il problema ma per davvero capirlo è un po' un metodo spacca è un po' il pignolo ecco non ti fai tante amicizie se ragioni così nella vita reale però qua tanto il computer non si offende con lui devi ragionare così ok a questo punto abbiamo capito quale problema vogliamo risolvere grande possiamo andare a casa no dobbiamo risolverlo quindi dopo l'analisi c'è una fase di progettazione la fase di progettazione è quella nella quale passo dalla conoscenza del problema all'impostazione di un metodo per affrontarne la risoluzione cioè mi chiedo ok una volta che ho capito che quello è il risultato a cui devo arrivare attenzione che quello che abbiamo scritto qua descrive il risultato che vogliamo ottenere e descrive in parte anche i dati di partenza da cui partiamo ma qui non c'è scritto come non ci abbiamo ancora pensato a come farlo dentro ci abbiamo pensato non possiamo impedirci di pensare qualche idea ce l'abbiamo ma non l'abbiamo ancora formalizzato dettagliato magari abbiamo vari modi in mente di risolvere lo stesso problema di affrontare lo stesso problema e allora qua infatti ho scritto scelta della strategia cioè da che parte lo prendo questo problema da dove comincio e questa di solito è la parte più complessa del ragionamento capir se lo prendo per le corna per la coda o per le gambe e poi a questo punto una volta che ho compreso la strategia bisogna dettagliare questa strategia attraverso un algoritmo cioè una serie di passi elementari che poi possono essere nella fase successiva poi codificati al calcolatore e quale strategie ci possono essere per questo nostro problemino a me mi vengono in mente due essenzialmente poi magari altre se ci ripensano una possibile strategia è dire facciamo una tabella facciamo una tabella in cui dato un nome a fianco ci sia un numero e bravo questo è il risultato che voglio ottenere come la costruisco? parto da una tabella vuota prendo il primo nome e vado a vedere questo nome c'è già nella tabella o no se non c'è ancora nella tabella lo aggiungo dicendo che hai uno se c'è già nella tabella non lo aggiungo perché c'è già semplicemente aumento il valore se c'è scritto 6 diventa 7 adesso la descriviamo no? intuitivamente diciamo tutti questa è una strategia passo i nomi uno per uno e aggiorno diciamo così una tabella nella quale aggiungerò via via i nomi nuovi che incontrerò e invece incrementerò i nomi esistenti è quello che faremo probabilmente alla lavagna scriviamo il nome e poi mettiamo una stanghetta uno se sento lo stesso nome rimetto una stanghetta a fianco e fa due questo è un modo un altro modo che non c'entra nulla con questo ma arriva lo stesso risultato potrebbe essere prendiamo l'elenco di nomi e mettiamoli in ordine alfabetico sarà capace un po' più di te la mettere in ordine alfabetico questo è quello che io farei se i nomi li avessi in Excel li metto in ordine alfabetico così tutti quelli con lo stesso nome li vedo vicini e posso contare i pacchetti di nomi consecutivi uguali e vedere quanto sono lunghi questi pacchetti perché la cosa della lavagna con le stanghette con i numerini non è che in Excel sia tanto facile farlo e se noi non usiamo Excel quindi non sappiamo ancora cosa sarà più facile o meno però è un'altra strategia ordiniamo i nomi in modo che i nomi uguali siano adiacenti quindi lo stesso nome può comparire in posti diversi dell'elenco io riordino l'elenco in modo che lo stesso nome compaia tutte le persone con il suo nome compaiono vicine e un modo per farlo è quello di metterli in ordine alfabetico non è detto che debba essere l'ordine alfabetico ma è il primo che viene in mente più facile e questa è un'altra strategia è possibile raccolgo i nomi li ordino e conto i pacchettini dico pacchettini perché stiamo ancora parlando a livello intuitivo poi dovremo formalizzarlo e mi viene in mente ancora una terza strategia che è un po' figlia della seconda ad esempio prendo se non ti spiace come ti chiami? Mattia tutti Mattia qua non muovetevi però prendo un individuo il nome dell'elenco e con quel nome vado a cercare in tutto l'elenco dove sono tutti quelli che si chiamano al stesso modo e ho il pacchettino poi questi li metto da parte il segno in qualche modo li ho usati usati brutto parto da un'altra persona che non è ancora stata conteggiata ecco meglio conteggiato che usato e prendo il suo nome e chiediamo tutti quelli che si chiamano così e così via quindi prendo il primo nome e vado a cercare tutti quelli che hanno lo stesso nome li conto li tolgo prendo il primo nome di quelli rimasti che non ho tolti li cerco tutti li conto li tolgo è un'altra strategia sono modi diversi di lavorare se vi immaginate di fare questa cosa con carta e penna fareste lavori diversi ma alla fine il risultato sarebbe lo stesso se non ci facciamo se non facciamo errori di esecuzione di calcolo quindi vedete che per un determinato problema stupido come il nostro ci sono molte strategie possibili quale è meglio la migliore è quella che ti viene giusta è quella che sai risolvere per carità ci sono delle qualità oggettive che distinguono una strategia da un'altra una soluzione da un'altra una può essere più o meno efficiente quindi magari arriva al risultato in 22 millisecondi e mentre l'altra ce ne impiega 36 e ci cambia la vita di millisecondi quindi una soluzione può essere più efficiente di un'altra una soluzione può richiedere più spazio di un'altra bisogna una lavagna più grande più piccola eccetera una soluzione può richiedere più righe di programma può essere più lunga da implementare rispetto a un'altra e la lunghezza di un programma non è detto che sia collegata al tempo di esecuzione perché magari il programma è breve ma ci mette tanto tempo il programma è lungo e ci mette poco tempo ci sono misure oggettive di questo genere ma non sono la nostra prima misura la nostra prima misura è come dicevo prima riesco a farlo sono capace a farlo l'ho capito bene e riesco a implementarla e a portarla a termine correttamente prima di tutto deve essere giusto poi se è giusto possiamo andare a discutire se è più o meno veloce se è più o meno efficace ma se non è giusto non vale nulla che sia velocissimo io faccio il programma velocissimo stampa che ne so Annibale 27 è falso è il programma velocissimo di una riga sola ma mi ha dato il dato falso e allora cosa serve che sia velocissimo brevissimo eccetera quindi prima di tutto scegliete la strategia che vi convince di più per la quale siete ragionevolmente sicuri di poter andare avanti di poter portare a termine il progetto e poi quindi trasformarlo in un programma questo è un punto chiave per cui io mi arrabbio sempre quando mi chiedono ma qual è la soluzione di quell'esercizio allora io ti posso dare la mia soluzione di quell'esercizio quello che ho fatto io applicando la strategia che mi è venuta in mente che a istinto mi sembrava la più promettente ma non è la soluzione cioè non è la radice di A di X che ti dà una soluzione le soluzioni le mille soluzioni per ogni problema cretino come questo più complicato ci sono come dicevamo molti modi diversi di affrontarlo molte le ho chiamate qua strategie tutte valide e per ciascuna strategia vedremo poi ci sono molti modi di implementarla a livello di codice quindi dimentichiamoci che per un problema esista la soluzione per un problema esistono le soluzioni migliaia poi per carità tutte giuste migliaia di soluzioni giuste corrette poi in mezzo a queste mille soluzioni corrette ce ne sono cento miliardi di miliardi sbagliate ok quindi non vuol dire che qualunque soluzione va bene perché tanto ce ne sono mille no fermo un attimo ci sono tante soluzioni giuste corrette a quel problema e infinitamente di più soluzioni sbagliate quindi si può dire se è sbagliata o giusta una soluzione ma non puoi dire che non puoi usare il singolare parlando della soluzione di un problema la soluzione infatti quando noi pubblicheremo le soluzioni degli esercizi cosa che io mi devo sempre fare una certa violenza per pubblicarle proprio per questo motivo che vi sto raccontando scriverò sempre soluzione proposta è una possibile proposta di soluzione e quello che vorrei in questo corso è che voi non cerchiate di indovinare o di copiare o di vedere qual è la soluzione che ho fatto io o che ha fatto Roberta che abbiamo pubblicato tra le soluzioni degli esercizi perché non serve a niente cioè non è che quando avete imparato a fare la manovra di parcheggio S avete guardato tante persone parcheggiare e poi lo sapevate no? no ci avete provato un certo numero di volte e poi avete imparato a farlo a modo vostro con dei vincoli con delle regole cioè non è che si va a sbattere più o meno delle linee guida ci sono certo ma poi ciascuno e qui impareremo lavoreremo proprio per imparare queste linee guida queste regole questi tanti esempi magari faremo moltissimi esempi proprio per riuscire a capire vari tipi di esercizi come si possono affrontare ma poi di fronte a una consegna di fronte a un esercizio siete voi il problema e il computer e dovete impostarlo come piace a voi quindi il tipo di supporto che cerchiamo di darvi anche mentre faremo i laboratori mentre sul gruppo Telegram alla lezione quando facciamo esercizi non sarà mai del tipo guarda che si fa così perché non imparate niente il tipo di supporto che vi diamo è fammi vedere cosa hai fatto dimmi cosa stai pensando e se hai fatto una cosa sbagliata cerco di farti capire dove l'hai sbagliata e se stai pensando verso un vicolo cieco cerco di farti capire perché in modo che tu poi possa fare il gradino verso pensare in un modo diverso per essere più vicino a una soluzione possibile ok? poi la domanda potrebbe essere foglio bianco non so proprio da che parte partire allora ci ragioniamo insieme non fatevi tentare da guardare le soluzioni che pubblichiamo noi noi le pubblichiamo un po' in ritardo sempre apposta ma tanto le trovate in giro quelle dell'anno scorso quindi o quelle che ha fatto il vostro compagno più bravo non vi serve è come se voi avete fatto studiare l'infinito di Leopardi l'avete studiata bene ma la sapreste scrivere un sonnetto di quella qualità no perché non ti hanno preparato a comporre ti hanno insegnato a studiare una produzione possibile e qui un programma è la stessa cosa alla fine i programmi che scriviamo possiamo dirlo che sono poesia per noi nel nostro mondo strano c'è molta creatività nella programmazione quello che scrivo alla fine del programma è il mio programma che ho creato io è la materializzazione del mio ragionamento la cosa che nessun'altra disciplina se non l'informatica vi permette di fare fare la stampa del vostro pensiero vabbè no quindi però il punto importante su cui non mollerò e lo ripeterò è proprio questo e dovete investire sul vostro ragionamento capire se è corretto capire se gli mancano delle cose noi vi possiamo aiutare però è il vostro ragionamento se avete iniziato per una strada e poi vedete che il vostro amico oppure professore l'ha risolto in modo diverso non vuol dire che la vostra strada sia sbagliata vuol solo dire che è diversa poi magari è sbagliata ma non è sbagliata perché il professore l'ha fatto in modo diverso può essere giusto o sbagliata di suo indipendentemente da quello ha fatto un altro quando vi ho detto questo è un corso di ingegneria voglio dire esattamente questo ci sono tante soluzioni possibili uno deve essere in grado di capire quale barra quali sono fattibili e poi portarle avanti e non esistono due soluzioni uguali questa è una pacchia perché agli esami so che se ci sono due compiti uguali avete copiato di sicuro non esiste probabilità al mondo per cui due persone diverse che abbiamo fatto ciascuno il proprio ragionamento siano arrivati allo stesso risultato finale non esiste ok nel nostro caso progettazione progettazione in questo caso cos'è abbiamo detto possiamo avere tre strategie chiamiamo la strategia uno creo una tabella inizialmente vuota in cui registro tutti i nuovi nuovi che vedo che incontro ed incremento il valore di frequenza di quelli che erano già presenti strategia due raccolgo tutti i nomi e li metto in ordine alfabetico partendo dall'inizio identifico i blocchi di nomi consecutivi ed identici e ne conto ne conto la lunghezza la dimensione la strategia tre prendo il primo nome e cerco nell'elenco tutti gli altri studenti con lo stesso nome mi annoto mi scrivo il numero di studenti trovati poi li cancello e passo al primo nome rimasto ripetendo così finché ci sono nomi e poi magari altre in questo momento non me ne vengono in mente e queste qua ne dobbiamo scegliere una strategia il passo dopo è formalizzare strategia è un po' più di un'intuizione posso fare così il passo successivo che c'è scritto nella slide è formulare un algoritmo un algoritmo è una descrizione ne parliamo nell'ora successiva è una descrizione passo passo delle operazioni da fare che sia diciamo così comprensibile da chi poi dovrà eseguire questa operazione allora lì dovrò tenere conto di cose che per ora mi sono chiare in mente ma non ho ancora formalizzato ad esempio mettere in ordine alfabetico mettere in ordine alfabetico è un'operazione che il calcolatore sa fare da solo è chiaro che cosa indichi o anche lì c'è un'ambiguità e le ambiguità sono la nostra piaga per fortuna parliamo di nomi non di cognomi perché se fossero i cognomi ci sono anche lì i problemi l'apostrofo allora se metto in ordine alfabetico l'apostrofo come lo conto? prima dell'A dopo la Z lo ignoro e metto in ordine alfabetico come se non ci fosse? va bene tutto ovviamente ma devo sceglierne uno devo specificarlo poi a noi non interessa comunque tu li metti altrimenti dobbiamo trovare i pacchetti uguali quindi è un dettaglio irrilevante ma è un dettaglio da specificare ripetendo così allora riesco a spiegare formalizzare il concetto di ripeto così cosa vuol dire? sono parole per noi ci siamo capiti penso però bisogna scendere a un livello di dettaglio maggiore usando un linguaggio che non solo ci capiamo tra di noi ma ci possa capire la macchina o perlomeno usando delle primitive dei concetti che siano alla portata della macchina quindi qui ho detto una tabella allora il computer è in grado di gestire una tabella? sì poi vedremo come lo vedremo alla quinta o sesta settimana del corso però è un tipo di struttura dati di contenitore di informazioni che è possibile usare gestire e quindi lo posso usare e so come usarlo quindi io qua non posso descrivere delle strategie che si basino su operazioni l'ordinamento o su organizzazione dell'informazione con una tabella che poi il computer non abbia perché poi una volta che è bellissima idea ma poi quando devo programmarlo non so come fare perché nella parte di linguaggio di programmazione che ho studiato non so quella cosa e quindi poi nel scegliere strategia saremo anche poi un pochino indirezzati da quello che sappiamo fare nei passaggi successivi allora nella prossima ora e inizio della settimana prossima ci concentreremo di più su questa parte qua dell'algoritmo quindi tradurre un'idea di soluzione una strategia di soluzione in una serie di passaggi e poi fatto questo quindi per ora diciamo così schippiamo c'è la parte di implementazione vera e propria cioè prendo e comincio a tradurre l'algoritmo c'è la descrizione passo a passo della mia strategia in codice usando il linguaggio di programmazione e questo ovviamente lo farò lo comincio a fare e qui guardate che il computer lo stiamo accendendo solo adesso finora l'unico computer che abbiamo usato era quello del nostro cranio e le scelte che abbiamo fatto e gli errori o non gli errori diciamo il successo dell'operazione dipende da cosa abbiamo fatto prima poi ovviamente c'è la fare di trascrizione per carità e potrai possiamo ancora sbagliare qui non abbiamo finito però questa parte lo scopriremo quella che sembra all'inizio spaventare di più in realtà poi è la più semplice perché si tratta di imparare delle regole di sintassi alla fine delle regole di funzionamento di una macchina se ho capito bene cosa devo far fare alla macchina riesco a dirglielo usando questo linguaggio di programmazione e è qua che entrano in gioco gli strumenti gli strumenti che vi ho fatto scaricare vi ho chiesto di cominciare a scaricare come ad esempio l'ambiente di sviluppo questo è il PyCharm che è il programma che useremo useremo dalla settimana prossima per scrivere e poter scrivere e sviluppare i vari programmi quindi questo ci permette di creare dei progetti all'interno dei progetti sono dei file ad esempio qui c'è un esempio molto semplice che non c'entra nulla con il nostro esercizio ma l'ho preso dalla lezione successiva quella registrata di un programmino che calcola l'ipotenusa di un triangolo con i cateti pari a 3 e 4 questo si legge quasi da solo nella sua idiozia la semplicità però per capirci il programma altro non è che una serie di istruzioni scritte con una certa sintassi con certe parole chiave con certe regole per cui la radice quadrata si chiama così e non c'è il simbolino che posso scrivere alla lavagna ma una volta che l'ho imparato fin e se devo fare il seno e non la radice quadrata non ci vuole un genio per capire che probabilmente sarà mat punto seno sin o qualcosa del genere non è quello il problema no? e se poi devo fare un'operazione ci serviranno le parentesi per dire qual è il valore su cui fare l'operazione sono regole di sintassi che si imparano facilmente sulle quali andiamo a descrivere quello che erano i passi ruotivi della strategia quindi l'algoritmo che avevamo in mente e una volta che l'ho scritto avviene la magia nel senso che io qui ho descritto in un formalismo che è un linguaggio di programmazione in questo caso il linguaggio di programmazione è Python ho descritto una rappresentazione dell'algoritmo che ho sviluppato per implementare una certa strategia risolutiva di un problema di cui ho fatto l'analisi alla fine sono arrivato a scrivere il programma e alla fine questo programma lo posso far funzionare schiaccio un tastino che si chiama run e lui alla fine fa questa operazione di stampa print e questa operazione ha fatto sì di stampare su questa parte inferiore dello schermo quindi qua dentro PyCharm vediamo che la parte in alto a destra è dedicata al programma che scriviamo la parte in basso è dedicata ai risultati di quel programma quando lo eseguiamo quando lo facciamo partire e quindi qua ha preso vita lui e ha risolto il problema per cui è stato progettato il calcolatore ha eseguito le varie istruzioni che ho codificato quindi io ho creato una creatura nuova che è il mio programma che ha una sua vita e quando parte sa fare una certa cosa quella per cui l'ho creato che sia giusta o che sia sbagliata perché se io l'ho creato male quindi mi sono dimenticato di levare A al quadrato qui e lui mi dirà che l'ipotenusa del triangolo del triangolo cateti 3 e 4 è 4,35 e non è colpa sua l'ho fatto così è colpa mia che l'ho fatto male però il problema non è tanto come appunto mettere la parentesi e lì ho sbagliato la formula ho sbagliato il ragionamento e quindi c'è questa fase qui ho scritto implementazione codifica della soluzione cioè scrivo il programma e poi la parte di test e debugging cioè ok l'ho scritto ma funziona? cioè fa la cosa giusta calcola l'ipotenusa giusta? calcola le frequenze giuste? cioè lui mi dà un risultato 4,2,35 se io non avessi scelto 3,4 per cui sappiamo tutti che l'ipotenusa fa 5 ma avessi scelto due numeri un po' più strampalati 107,93 e lui mi avesse stampato che l'ipotenusa è 129 ci può stare dai a naso ci può stare maggiore di cui dei due non troppo non è maggiore del doppio può essere no? e invece è mancato sbagliato allora testare un programma significa farlo funzionare sotto varie condizioni in cui magari conosciamo ah non magari in cui conosciamo quale sia il comportamento corretto che deve avere e controllare che il comportamento che il programma effettivamente esibisce sia quello corretto mi dia il risultato corretto perché lui qualcosa stampa qualcosa sputa fuori e poi se sputa fuori schifezza quindi un conto da scrivere il programma non abbiamo finito quando abbiamo finito di scrivere il programma siamo a metà una volta che c'è un programma devo verificare se funziona quindi trovare dei casi di cui conosco il risultato e che cerchino di mettere in crisi il programma stesso e poi nel caso in cui non funzioni capire perché adesso è facile mi avete visto cancellare alla seconda ma immaginate che fossimo partiti da questo programma avessimo visto il risultato 4,35 che non è l'ipotenusa giusto cosa c'è di sbagliato? dobbiamo andare alla caccia dell'errore può essere un errore però in questo caso ci sono 5 istruzioni in tutte quindi non è una caccia molto complicata però magari non salta all'occhio dai per scontato che quella roba lì magari ti concentri sulla rizzo quadrata e non vai a vedere l'argomento della parentesi oppure magari anziché A per A ho scritto A più A perché mi è scappato il dito questo è ancora più difficile all'occhio magari non salta all'occhio però è sbagliato allora l'attività che si chiama appunto debug debugging è proprio quella di andare a cercare perché allora il risultato è sbagliato perché ho sbagliato la formula o perché sono sbagliati i valori di partenza di questa formula e dovrò fare un po' l'investigatore un po' lo Sherlock Holmes in cui devi capire da un risultato da un indizio finale il risultato è sbagliato capire quale sia la causa chi è stato il killer e magari scopro che è un errore stupido di battitura magari scopro che è un errore di codifica per cui magari non ho non ho usato che ne so le liste in Python nel modo in cui devono essere usate quindi era una mia conoscenza imperfetta un'applicazione imperfetta del linguaggio quindi la parte di codifico ho sbagliato oppure ho sbagliato nella parte algoritmica in cui magari quando ho implementato l'algoritmo quando avevo detto cerco tutti gli studenti con lo stesso nome conto gli studenti conto i Mattia ma non conto lui perché magari lui mi sono sbagliato a contare conto quanti sono gli altri tra virgolette Mattia anziché ne so 5 ne conto solo 4 perché ho sbagliato nel mio algoritmo ho sbagliato a fare il conteggio capita oppure ho sbagliato proprio strategia a monte è chiaro che era più doloroso scoprire alla fine che quando hai fatto tutto l'idea iniziale che avevi avuto non funziona perché è proprio baccata capita si butta via e si ricomincia quindi questa attività qua di verificare che il programma funzioni e trovarne gli errori e quindi correggerli che possono essere appunto dagli errori più semplici alcuni ci segnala già l'ambiente di sviluppo del compilatore Python nel senso che se io ad esempio anziché print scrivo per sbaglio per un'ora di battitura print perché la I e la U sono vicine e quando lui parte mi dice guarda attenzione che questo programma qua non riesco a eseguirlo perché pronto non so cosa sia sono ricco quando faccio degli errori così banali e il calcolatore me li identifica subito e li correggo al volo mi dice guarda c'è un errore alla riga 13 la riga 13 è questa e l'errore è questo il nome pronto non è definito poi addirittura fa finta di essere più furbo di me e dice ma non è che volevi dire print prendo anche per il naso sì volevo dire print scusami però e non illudetevi gli errori li fanno tutti dai programmatori che stanno imparando a quelli più esperti si fa la stima che anche i programmatori esperti facciano un errore ogni 10 righe di codice non sono tante 10 righe vuol dire che ho scritto 100 righe di programma ci sono 10 errori dentro ma non perché sono scemo perché è così perché è un'attività così intensa dal punto di vista mentale cerebrale che tu devi avere in mente tutto che è facilissimo perdersi qualche dettaglio poi è chiaro che chi ha le prime armi faticherà a fare istruzioni più semplici faticherà anche sulle cose più semplici chi è più esperto lavora più per blocchi di programma la ragione un pochino più ad alto livello ma alla fine sbaglia lo stesso e quello che si stima è che il tempo che ci metto a codificare la soluzione di solito è uguale o inferiore al tempo che ci metto a correggerla quindi se ci ho messo un'ora a fare un programma mettete pure a budget un'altra ora per farlo funzionare a meno che non vi sia arrivato un particolare diciamo così giorno fortunato ecco può capitare a me a volte capita io farò tanti esercizi faccio molti esercizi in aula così in diretta non me lo vado a preparare esattamente il giorno prima perché sarebbe irrealistico di solito sono bravo cerco di non sbagliare però a volte capita ma io sarò fortunato perché mentre io scrivo faccio un errore voi siete in 200 e mi dite guarda che hai sbagliato lì è un lusso avere qualcuno che ti aiuta a osservare il ragionamento osservare la codifica e ti aiuta a evidenziare gli errori che hai fatto tanto siamo nella stessa squadra dobbiamo risolvere i problemi mica fare la gara a chi sbaglia di meno e poi ovviamente la fase finale quando tutto funziona c'è finalmente l'applicazione sui dati reali l'ho fatto delle test di prova mettendo tutti i Giovanni una classe dei 100 Giovanni vediamo se mi dice una classe di 50 Giovanni e 50 Antonio allora mi farò 50 Giovanni e 49 Antonio una classe vuota con nessuno studente faccio un po' di test di prova e poi prima o poi arriverò ai dati veri adesso so che siete curiosi e so che sia vicina alla fine dell'ora quindi andiamo a vedere la risposta allora io ciò che ho fatto è quello di scaricare dal portale della didattica l'elenco degli studenti per fortuna era scaricabile questo elenco degli studenti in un formato che si chiama formato CSV che poi potremmo usare CSV sta per comma separated variables cioè variabili separate da virgola il vostro nome non lo trovate perché sono effettivamente le vostre matricole i vostri cognomi i vostri nomi ma per i nomi di privacy li ho mescolati quindi di sicuro c'è qualcuno che si chiama diletta ma non si chiama gigo di cognome e c'è qualcuno che si chiama gigo ma non si chiama diletta di cognome così posso distribuirvi questo file senza fare tutte le pippe della privacy eh no ma hai detto tutto il mondo come mi chiamo e qual è il mio numero di matricola no è mescolato randomico ok quindi il risultato che otterrò è lo stesso sulla statistica dei nomi ma tanto li ho copiati con i cognomi con le matricole diverse ma voglio farvi vedere che questo è il formato del file da cui sono partito quindi quando all'inizio abbiamo detto nei nostri ragionamenti allora parto dall'elenco degli studenti ecco l'elenco degli studenti è fatto così non ho un elenco bello ordinato con già solo i nomi puliti e magari ho questo elenco dove c'è quell'informazione ma me la devo andare a estrarre in un certo modo e vai impareremo anche quello per carità e quindi applicando quella che io ho chiamato la strategia credo 1 quella della tabella ho poi scritto un programma in python che è questo è un programma cosa 50 righe 60 righe così del genere che oggi non capiamo come vi dico è un programma che farete tranquillamente verso la fine del corso adesso non andiamo a leggere le istruzioni perché non ci capiremo nulla però applica queste cose e alla fine stampa i valori che volevamo alla fine stampa il nome più frequente quante volte compare quali sono questi nomi e poi come bonus ho anche visto stampati i nomi che compaiono almeno tre volte così adesso si aprono le scommesse ok sul nome più frequente l'incasso della lotteria verrà devoluto a me nella classe ci sono iscritti questi 280 studenti erano ieri non so se oggi sono cambiati è stato ieri il nome più frequente compare 12 volte e si tratta di Lorenzo poi ci sono una serie di altri nomi che compaiono almeno tre volte che sono io qui li ho messi in ordine se non sbaglio alfabetico Alberto Alessandro Alessio Andrea Daniele Davide Edoardo Federico Francesco Francesco Gabriele e vabbè li potete vedere tutti questi nomi compaiono almeno tre volte ma ovviamente sono ben distaccati da Lorenzo che compare 12 volte e c'è solo lui con 12 solo lui solo questo nome con 12 non c'è nessun altro pari merito se non l'avrei stampato ricordate il discorso del pari merito che abbiamo fatto prima non sappiamo chi sia il secondo arrivato il secondo arrivato è uno di questi io adesso ho fatto un programma che mi stampa il primo e mi stampa quelli che hanno almeno tre volte e sto programma non mi stampa il secondo se volessi il secondo e non ci avevo pensato prima che mi serviva anche il secondo dovrei modificare il programma tornare un attimo sul mio algoritmo aggiungerci un pezzo si può fare per carità basta modificare sopra giusto nel modo giusto e poi farlo per avere qualche informazione in più ho pensato e questa è una cosa che non impareremo nel corso ma ci vogliono dieci minuti imparare di fare anche un grafico dove vediamo a questo punto tutti quelli che compaiono almeno tre volte con la loro quantità relativa quindi Lorenzo compare 12 volte poi ci sono 8 Alessandro 7 Simone e 7 Matteo poi c'è 5-6 persone che hanno 6 che compaiono 6 volte Francesco, Stefano, Pietro Mattia pensavo di aver vinto ma Federico e così via e poi ci saranno tutti gli altri che compaiono 2 volte o una volta sola che non ho indicato nel grafico se no mi scoppiava il grafico e non si vedeva più niente ok? allora ci abbiamo messo un'ora a fare insieme questo percorso questo ragionamento è il tipo di percorso di ragionamento che faremo per tutti gli altri esercizi a me piace che quando risolviamo insieme un esercizio facciamo anche insieme il ragionamento per risolverlo che mi fa capire perché sono arrivato a quella implementazione perché sono arrivato a quella codifica e non semplicemente dicendo si fa così scrivi queste istruzioni ne copiale perché sarebbe un'operazione del tutto inutile del tutto diseducativa ok ci possiamo adesso prendere un attimo di pausa su questa diciamo così nuova consapevolezza riassunta da questa vignetta e ci prenderemo un quarto d'ora all'intervallo quindi riprendiamo alle 13 e 10 grazie grazie